Gaetano Vitale è il nome nuovo per la mediana del Teramo che sembra pescare almeno nelle intenzioni nel Seregno da cui vorrebbe prelevare anche l'attaccante Filippo D'Andrea. Vitale classe 2001 di proprietà della Salernitana ma con un recente passato come D'Andrea Alfoggia. In realtà la colonia di ex rossoneri nell'organico Brianzolo complice anche l'arrivo in estate di Nini Corda è molto folta. E dall'addio dell'ormai ex direttore sportivo è entrato in collisione prima e è arrivato alla rottura poi con il patrone Erba. Questi sono evidentemente profili in uscita da Seregno in cerca di sistemazione già nella finestra invernale di calciomercato. Il diavolo ci sta facendo più di un pensierino. Il problema è sempre l'operatività della società biancorossa che prima di dare l'ok a operazioni in entrata dovrà certamente salutare qualcuno presente in organico compensando con un arrivo ma rimanendo negli argini all'interno dei quali è costretto il suo Dalizio Teramano dalle vicende societarie che ieri hanno visto solo una tappa interlocutoria con l'incontro tra Iachini Chierke e l'amministratore giudiziario. L'ultimo allenamento previsto per oggi invece è stato annullato a causa della positività di Daniel Birligea riscontrata dallo staff col giocatore che regolarmente vaccinato è comunque già stato messo in isolamento domiciliare per aver manifestato una sintomatologia molto simile a quella influenzata. La società ha attivato i controlli federali e sanitari attualmente vigenti e riprenderà le sedute solamente ad anno nuovo lunedì 3 gennaio, allenamenti individuali e contestuali giro di tamponi che dovranno verificare le condizioni della Rosa nella settimana che porta al primo impegno del 2022 contro il Siena all'Artemio Franchi. Nonché i bianconeri si alla passino meglio del Teramo, tutt'altro ieri è stato ufficializzato il quarto allenatore in poco più di quattro mesi. Dopo Gilardino in panchina al Bonolis nello 0-0 di inizio settembre durato 11 giornate, Maddaloni 6 e Paolo Negro la cui avventura è stata lunga poco più di un mese tocca ora a Pasquale Padalino cercare di risollevare i toscani partiti con grandi ambizioni e sprofondati in una crisi fatta di sei sconfitte consecutive negli ultimi sei impegni di campionato. Gli stop con Lucchese, Grosseto, Ancona Matelica, Pontedera, Cesena e Vispesano hanno relegato il Siena nella zona destra della classifica, quattro punti più su del Teramo e con l'addio di Giorgio Perinetti a fare ancora più rumore. Il Diavolo con la vicenda societaria e il disimpegno di Iachini anche dalle questioni relative al Bonolis ha una sola carta, fare quadrato all'inizio anno e provare a far capire ai bianconeri di Padalino che chi sta meno male in questo frangente è proprio il Diavolo, nonostante tutto.